... Possiamo baciarle la mano? No! Magari! Salve! Ma io bacio qualunque cosa! Ce li concede tre minuti, sì? Due! Due! Perché noi siamo ancora emozionati nel 70, lei ci ha iniziato a tantissime cose! Il primo ombelico in televisione, nudo, che è già un uomo! Il Tocca Tocca l'anno dopo! Se lei è così cortese da commentare nella nostra esibizione? Ah, sì! Lo ballate voi! Sì! Eccolo qua! Sante! Eccoci! Eccoci! Vai! Guardi! Vai! Zitto! Mi piace! Vai! Vai! È così! Era così! Com'era? Mi piace! Ci vuole più sex appeal? Non è questa roba give me five! Facciamo una prova! E quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me! Lei è la regina delle sorprese! Sì! È la regina delle sorprese! Non sono regina ma mi piace fare le sorprese! Noi abbiamo scoperto che all'ultimo dell'anno a Madrid, la Scampanadas, lei si è un po' sorpresa perché lei era su una terrazza e ha visto in una fontana un uomo un po' di sfinto diciamo! E ha avuto un attimo di sorprese! Era nudo! Assolutamente nudo! Allora guardi, noi le facciamo una sorpresa! L'uomo nudo di Madrid è qui! Ecco qua! Ma prendi freddo! Ciao, non siete iene, siete molto simpatici! Oh, grazie infinito! Però comunque è stata una sorpresa! Certamente sì! Ma meravigliosa! Solamente che non prenda freddo! Ciao! Come si chiama? Francesco! Francesco! Molto spagnolo! Ciao Francesco! Grazie, Raffaella! Chiusi in fondo il cuore